Tanta, tantissima commozione, forti, fortissime emozioni, sguardi che raccontavano tante storie e poi il suo sorriso indimenticabile, eterno, quello di Cerino che ha lasciato sulla terra una traccia impossibile da cancellare. Tutti hanno voluto ricordarlo in occasione della seconda edizione del Memorial Ruggero Napoletano, torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Under 17 e organizzato dalle medaglie d'oro Barletta, la sua società di appartenenza. Sino a due anni e mezzo fa era un giovane e promettente calciatore, un 15enne con tanti sogni da coltivare, era il resta, un esempio perché ha avuto la fortuna di conoscerlo. Purtroppo è andato via troppo presto ma ha lasciato veramente tanto a tutti quanti, era un ragazzo duro, ci siamo conosciuti calciando un pallone, stavamo rincorrendo lo stesso sogno però ha lasciato tanto a tutti noi. Ragazzo splendido, solare, un ragazzo che amava a giocare a calcio, che amava a divertirsi, un ragazzo speciale. Covid ha tentato di farcelo rimandare ma grazie a tante persone, a tanti colleghi, a tanti presidenti, dirigenti, ce l'abbiamo fatta. Otto, le squadre che hanno partecipato ai quattro giorni del torneo. Bari, Biceglie, Monopoli, Foggia, Medaglia d'oro, Fidelisandria, Levante Azzurro, Bari e Bitonto. Per quanto riguarda la famiglia Bitonto siamo onorati di partecipare a questi Memorial perché chiaramente andiamo ad onorare la memoria di un ragazzo, mi dicono, esemplare sia al di fuori che dentro il calcio. Per noi è sempre un modo anche per mettere in mostra i nostri ragazzini al pari di Cerino. La vittoria è andata ai giovani del Biceglie che hanno sconfitto in finale 3-1 da Levante Azzurro, Bari. Presente al Manzichi Apolin anche una delegazione dell'Aido, i genitori di Cerino, papà Massimo e mamma Nunzia in un momento di profondo dolore. Hanno deciso con un gesto di enorme generosità di donare gli organi. Con Ruggerino sono stati prelevati 9 organi. Pensate che cosa ha dato. Sono stati tutti, insomma, date, hanno dato vita a tantissime persone. E questa è una cosa veramente molto bella. Io, noi abbiamo come Aido Comunale, abbiamo tantissimo apprezzato questo atto d'amore grandissimo, grande, molto grande. Pensate a queste persone che stanno bene, che, insomma, hanno riavuto la vita. Ci sono le condizioni di aver bisogno anche noi di un organo e quindi di tornare a una vita più o meno normale. Perché è ovvio che ci sono in Italia oltre 9.000 persone che hanno bisogno di un trapianto. E purtroppo di questi 9.000 solo il 33% riesce a doverlo, quindi a tornare a una vita regolare. Perché dopo il trapianto, praticamente il trapianto è una terapia per cui si torna a una vita normalissima. Appuntamento a dicembre 2021 per la terza edizione del Memorial Ruggero Napoletano. Sempre e soltanto nel segno e nel ricordo di Cerino.